Loco, oggi finiremo Minecraft con i Pokémon che troveremo all'interno dei Lucky Block Quindi mi raccomando, cerchi di essere sfortunato Perché voglio finire Minecraft prima di te È una gara a punteggi Ma c'è una sfida Il primo che vince è la sfida di ogni dimensione Potrà eliminare un Pokémon da 1 a 6 All'interno della squadra dell'avversario Sei pronto? Elimino tutti, ti elimino Ah, sì, sì, certo Guarda, io ancora non ho trovato Pokémon leggendari Ma è questa cosa che mi sta facendo arrabbiare veramente tanto, caro Bolloco Un Cartana Cartana è un gran bel... Puuuhuhu Marshalo Ti prego Marshalo di Micheci con le mosse belle, forti e potenti Che ti voglio super forte Dragonite lo prendo perché non si sa mai se escono Pokémon forti poi all'interno dei Lucky Block Quindi non me lo tolgo per niente Niki Lego No, ragazzi, no, è il 48 Non tolgo niente Niente, niente, niente Vai, proseguiamo Sono fiducioso però Ah, c'è un sviola Eh, loco, tu sei messo meglio di me, eh Niente di Pokémon Un po' un peccato però Sì, sì, ne sono due, va bene, loco Non dire cavolate, ne sono due veramente potenti sicuramente Sì, sì, sì Archeus è tanta roba da avere in squadra Loco, non scherziamo, dai Però, spero di... No, pensavo fosse un Suicun Sarebbe stato molto comodo Ma sono fiducioso Come ti dicevo Troverò No, è stato in battaglio Taranitar Oh, Taranitar Te lo rubo, te lo rubo No, no, non rubo in tubo È a livello 58 in realtà Non è che sia sta grandissima roba, eh Dai, Taranitar da nazione Però non abbiamo tempo da perdere Vabbè, Taranitar per adesso Non vuole entrare in Italia nella mia squadra Vediamo se ti erano dei Pokémon Però un po' più utili Un po' più forti Sto trovando un sacco Di Team Rocket Che ti ho loco in questo momento Quindi Sto aprendo un sacco di Lucky Block Che alla fine si dimostrano un po' inutili Anzi Ho già finito il mio primo stack Dragonite Eh, vabbè, ragazzi Vai, Charizard, questo Eh, vabbè Prendo il mio Taranitar al 58 E lo portiamo avanti Vai, apriamo Charizard al 36, ragazzi Ma cos'è sta roba? Cos'è sta roba? Voglio leggendare i Blastoise Non è un leggendario Vabbè Comunque Neanche io trovo qualcosa di troppo interessante, sai? Sai che veramente Stiamo trovando pochissimi Pokémon leggendari Se non questo Hazelf Che dopo verrà portato a livello 70 Molto bene Ok, vai Ottimo, ottimo, ottimo Hazelf Axelus al 53 Axelus Lugia Sì Vieni qua Vieni qua istantaneamente Lugia Fatti catturare subitissimo Upa Upa è bello Upa è bello, ragazzi Upa è bello forte Però Zekrom Sì Sì, sì, sì Zekrom Istantaneamente Vedi di entrare dentro Dentro la mia Master Ball Perché non voglio che Non neanche devo sferare un altro po' Non voglio correre il rischio di perderlo Parchia Parchia Sì, ragazzi Meno male Non potevo fare Se no Una sfida del genere Una specie di Minecraft speedrun Con i Pokémon scarsi Non potevo permettermelo Però Ricordiamoci sempre l'ombra Della sfida Dove ognuno di noi Deve essere il più veloce dell'avversario Per eliminare gli YouTuber Di ogni dimensione Io ho trovato un Diense al 70 Loco Quindi credo che tra un po' Posso già costruire una squadra Di leggendari Upa Upa anche da me Upa anche da me Molto bene Uh Cresselia Ho trovato il tuo Pokémon preferito Chi hai trovato? Dark Ray? Coffagrigus Coffagrigus È vero è vero Dark Ray hai trovato Coffagrigus Un bel Pokémon in realtà Loco Vai Continuiamo a rompere Tarantum non è un Pokémon Legendario quindi non mi interessa Un Sentra tal 5 Ma che me ne faccio? Via Andiamo da questo lato Voglio costruire una squadra Molto potente Ma coi Pokémon che ho Sono già molto più fiducioso Certo Tu hai un Arceus Loco eh Cioè tu hai già Hai già Dei gran bei Pokémon Ma ricordiamoci che è una bella battaglia a tempo questa Via Proseguiamo Andiamo di qua Zai garde Zai garde Godo Ultimito dell'Akiblock Attenzione Uno E Due Niente Loco Non ho trovato assolutamente nulla Costruisco la mia squadra Già li metto in ordine Di scelta in realtà Perché qua abbiamo Vai vai Marco Ok Io tra Upa e Dienzi Che andrò a scegliere No Dienzi no perché è una mossa Upa molto meglio Decisamente molto meglio Ci devo derubare del tuo PC Eh Tanto puoi venire a utilizzarlo Loco che non mi interessa Ok Io ti dirò Loco Che in realtà posso già partire Come sei messo? Sto partendo anch'io Ok Allora Buona battaglia Io parto via Si parte Ragazzi È partita la speedrun Devo cercare lo youtuber da sfidare Non posso venire sulla crea Oh 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 vedo Steph Vedo il mio primo Steph Dai A livello 50 partono Loco Bello Però c'è una battaglia buggata Quindi devo uscire Via Ok Ora vedo tutto Vai Partiamo Hai trovato anche te Steph? Si Devo muovermi Via primo Qrem Mi ha battuto Primo Qrem Anche Rayquaza ha battuto Come ha battuto Rayquaza? Oh cacchio Però Geridos mi farà perdere Un sacco di tempo Palker resistimi Devo andare ancora Di Dragon Brief È eliminato anche Geridos Attenzione campioncini Zekrom di tipo acqua Non ce l'ho fatto anche con Zekrom In realtà Zekrom è tipo er Scusatemi Tipo elettro Il mio palco è tipo acqua Loco come si è messo? L'ho ucciso adesso Rayquaza basta Sono Rayquaza eliminato? Si Uh molto bene Dai Charizard eliminato Prima eliminazione No Eliminato lo youtuber Loco Ebbene si Prendo tutto quanto Il drop Ho scelto quindi lo Steph Meno cattivo Di per sé Loco Quindi ottimo Sono libero Di costruire quindi Il mio portale Per il Nether E di eliminare Il tuo primo Pokémon Che va dall'1 al 6 Quindi quando finisci la battaglia Vieni pure qua da me Vieni pure qua Loco Ti aspetto qua Tipati pure da me Hai un PC con te vero? PC Ho paura Marco Allora Allora Devi fare uno screen Dei Pokémon che hai Mi raccomando È importantissimo Ora Ragazzi Deve essere una scelta Non logica in realtà Ma anche un po' logica Ma non logica Perché non so Che squadra va Loco Devi aspettare fino a quando Entro nel Nether Sappilo Entro nel Nether E Ti chiamo Il Numero 4 Chi è? Axorrus No Sono leggendario Mi è andata malissimo Ragazzi Vabbè vado a cercare subitissimo La fortezza Che potrebbe essere già Magari qua in zona Quindi Se c'è entrato nel Nether Schifoso Guarda veramente eh Ho già trovato anche La fortezza però Ha 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 Ok Guardala qua che comoda Che è ottimo Allora È molto incastrata Dannazione Non devi farci caso Allora Vediamo se di qua posso passare Se posso muovermi Da questo lato Oh youtuber Ti prego Oh Kendall 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 Al 70 Parto con Lugia Però A questo giro Sì Però Lui ha un Graudon Eh loco Mi devo muovere Ti ho eliminato Un pokemon Inutile Vado Trovato Iro pompa Ti prego Graudon Non premi troppo Le scatole Vai Abbattiamolo Sono al 70 Loco eh Sarà già Una battaglia Molto difficile Hai trovato? Sì ma Si è aumentato Il mio pokemon Male Malissimo per te Io ho già eliminato Il graudon Loco Iro pompa Anche sul necroz Ma Non l'avevo Riminato Donazione Lugia ha preso Tanto danno Eh ma Lugia È troppo forte Loco Ho perso la battaglia Ti avviso Ho perso la battaglia Perché? Perché il necrozma Si riattiva la vita Ogni volta Quindi devo per forza Mettere in campo Marshadow Che magari Ha una mossa Che è super efficace Tipo Dark Questa qui è una mossa Tipo Buio Assurance Che lo ha quasi eliminato Tu mi stai sicuramente Recuperando Necrozma Non farmi perdere tempo No loco Loco è finita per me È finita È finita Continua a recuperare la vita Ti prego Eliminato 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 Mamma che corsa È tutto L'hai ucciso? Si l'ha eliminato No l'ha eliminato Necrozma Ora che mi invento Contro Contro Requaza Ne ho solo due Quindi rischi Loco in questo modo Te Allora Metti in campo Il mio palchia Che non ho curato Nella battaglia di prima Quindi ho rischiato Anche in quel modo Ti prego palchia Resistimi Dannazione Ne ho solo uno Ne ho solo uno Che non l'ho mosse Sai cosa devi fare Quindi se ne ho solo uno Loco vero? Devi tornare a casa E curare i Pokemon Lo so Ora Metti in campo Kaiogre lui No Kaiogre mi ha eliminato Zekrom Urca 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 Io non posso rischiare Di perdere questa sfida Quindi vado di Ghast Che ha tolto pochissimo Sei morto? Sì Io invece non ho finito Le mosse su Lugia Vado di Cresselia A questo punto Che spero che abbia Delle mosse un po' più decenti Io mi rubo i Lucky Block E inizio a aprirli Mi servono nuovi Pokemon Ti servono nuovi Pokemon Quindi apri i Lucky Block Sì 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 È pesante Loco Pesante Qua Psycho Cat Posso eliminare il suo Kaiogre Tu stai perdendo tantissimo tempo Anche se trovi i nuovi Pokemon leggendari Tu avrai comunque uno slot di 5 Pokemon Quindi non potrai sommarli Ho eliminato sto Kaiogre Ho eliminato Kendall No Sì Ho preso tutti quanti Gli Enderai di Kendall Ora Caro Bulloco Io ho preso tutti quanti Gli Enderai di Kendall Mi lancio direttamente nella lava E vengo da te Perché tu ti devi fermare Istantaneamente E dobbiamo eliminare I tuoi Pokemon Dove sei caro Bulloco? Mi tipo da te Puoi anche rimischiare Eh la linea Cioè non è che devi forza tenere Quella di prima Quindi se vuoi No no l'ho tenuta L'ho tenuta Ok Io Loco ti chiamo Numero 2 Prova a tirarlo fuori Vediamo cosa ti elimino L'avevo appena preso L'ho appena trovato Molto molto bene Adesso abbiamo Land Quindi possiamo andare assieme Loco Ma tu avrai solo 4 Pokemon Per catturare il tuo Mewtwo Loco sei pronto? Prontissimo Allora Hai quindi solo 4 Pokemon Nessuno curato Quindi sei messo veramente Malissimo No io ho curato Il primo Pokestop Ah Io invece non ho curato Nessuno Quindi Ah si ti aiuto io qua Va bene va bene Guarda cosa ho rubato Cosa hai rubato Un curatore? Guarda che tu sei veramente Un ladro Loco eh Vai Guarda qua Tu 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 Allora Io curo i miei Pokemon Poi dovrei rompere questo Che andrò a mettere gli Enderai Abbiamo 4 Pokemon Contro i miei 6 Per Land Andrà a sfidare L'ultimo YouTuber O andare direttamente Sul Mewtwo Loco Come ti comporterai? Direttamente da Mewtwo È la mia unica possibilità Di vincere Ok perché sai Io potrei potenzialmente Andare dallo YouTuber Loco eh E in questo modo Vai Beh io quasi quasi Non me lo faccio ripetere due volte Così posso prendere la Master Ball Mewtwo ancora non è spawnato Quindi perderai tempo Anche per lo spawning Là in fondo c'è Steph Chi sta aspettando Non so per a che livello possa essere Quindi vediamo un attimino Mi avvicino Eh sono al salto Sarà almeno al 90 Steph Al 100 Eccolo qua Mewtwo Ti hai già spawnato Mewtwo Loco? All'80 Allora Io cerco di capire Se riesco a gestire questa battaglia Con i Pokemon che ho Perché siamo tutti quanti A livello 70 Con i miei Pokemon Lui è a livello 100 La Master Ball Sarebbe devastante Da ottenere Però Mamma mia C'ho Mewtwo vita rossa Loco Devi catturarlo eh Per battermi Lo so assolutamente Però mi sa che non ce la faccio io Mi sa che no Non ce la faccio ragazzi Perché è troppo difficile Abbattere Steph Si cura Si cura il tuo Mewtwo? No perché Mewtwo si sta curando? Eh avrà recover Avrà recover Loco No mi ha abbattuto lo Zekrom Pesante Pesante Steph è difficilissimo Da abbattere L'ho sto usando all'infinito Steph è veramente difficile Abbattere Ho perso Zekrom Peccato Eh provo con Upa Vediamo se abbiamo qualcosina Tipo Shadow Ball Per eliminare Mewtwo Primo Pokemon di Steph eliminato Sono molto vicino alla Master Ball Loco Ora Cavolo cavolo Cosa mi invento? Shadow Ball ancora? Uh ho fatto un sacco di danno con Upa Al suo Necrozma Mamma mia ragazzi Non mi sta facendo danno Steph non mi sta facendo danno Ha battuto anche il Necrozma Ok? Sono ad Arceus Sono al terzo Pokemon Loco Arceus Mi raccomando Mi raccomando No non devo perdere tempo Faccio una cosa Metto in campo il Marshaldo Perché ha close combat Che è super efficace Contro Arceus Però li toglie pochissimo Loco non dirmi che l'hai catturato Non gira neanche Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Molto bene Allora Marshaldo per favore No non ce la faccio ragazzi Devo rimettere in campo un Pokemon Che possa essere devastante Vai Upa Torna in campo per noi Per favore Upa Non trollarmela Tolgo pochissimo Loco la mia battaglia È difficilissima È lunghissima Anche io tolgo pochissimo Il mio Mewtwo Dai ragazzi Cosa posso mettere in campo? Palkia forse Palkia Ha preso un sacco di danno Palkia Ti prego non fare ancora Extreme Speed Arceus Dannazione Ti sta guardando Io l'odio Io l'odio Io mi sa che non ce la faccio con Steph Sto prendendo un sacco di tempo Posso solo andare di idropompa Che gli toglie troppo Poco a questo Arceus Ma che cavolo ha fatto? E ce l'ho fatta dopo 100 turni ragazzi Per far fuori quell'Arceus Ho davanti un Mew Nella sua versione speciale Che si è lanciato nel portale del land ragazzi Quindi non so se è riuscito a vedere No Si è lanciato nel portale Mi ha sporato anche la Mewtwo L'ho visto? No Molto bene Molto bene Mew Per favore Non ho tempo da perdere Fatti eliminare Sei anche paralizzato Siamo entrambi paralizzati Mew Per favore L'ho addormentato L'hai addormentato? No è peggio quando lo addormenti Loco Ti prego entra Ti prego eliminati Mew Ti prego idropompa Lugia ti prego Attaccalo Lugia no No è uscito Loco sono messo malissimo io Anch'io Ho questo Mew Che mi sta rompendo le scatole In una maniera incredibile Te lo assicuro Mi sta creando un sacco di problemi Come Steph Ma non me l'aspettavo così difficile Però Il fatto che tu l'hai addormentato Potrebbe essere un enorme problema per me Perché Cos'hai fatto? Cosa? L'ho ucciso L'hai ucciso? Io ho eliminato Steph Master Ball Sei ucciso solo Non ci credo Non ci credo Guarda qua cosa faccio Loco Master Ball E lo vado a catturare Ma come è fatto a ucciderlo Loco? Il re addormentato Si colpiva da solo Non lo so cosa succedeva Perdeva vita Ragazzi Questa speedrun qua È stata veramente tossa Perché Quell'archeus era imbattibile Ma ce l'abbiamo fatta Noi campioncini Ci fermiamo qua Ci salutiamo E ci vediamo in un prossimo video Ciao Ciao